buongiorno Giancarlo oggi con te voglio affrontare un tema che sta sicuramente coinvolgendo il nostro paese ma direi tutto il vecchio continente o buona parte insomma dell'Europa mi riferisco alla protesta degli agricoltori i trattori hanno assediato l'Europa penso a Francia Germania Belgio Romania l'Italia naturalmente e sono molti appunto gli agricoltori a protestare contro le politiche agricole pensate dall'Unione Europea loro chiedono evidentemente di ripensare di rivedere queste misure agroalimentari perché temono che possano apportare un calo dei profitti e rendere l'agricoltura italiana in generale il made in Italy il frutto delle terre del bel paese meno competitivo nelle nelle importazioni io quindi volevo sapere da te qual è il tuo giudizio in merito a queste proteste se pensi possa essere un segnale importante se le motivazioni avanzate dagli agricoltori sono corrette e se dall'altro lato insomma per vedere un po' entrambe le facce della medaglia le misure invece delle dell'Unione Europea sono effettivamente sbagliate beh chiaramente l'agricoltura dobbiamo dirlo subito è un campo un po' particolare un settore decisamente anomalo rispetto all'industria rispetto ai servizi naturalmente sappiamo tutti che l'agricoltura è fondamentale perché ci ci fornisce ci fornisce ciò di quale abbiamo bisogno per vivere cioè le cose da mangiare quindi è effettivamente un aspetto importantissimo cioè ogni stato vorrebbe avere un comparto agricolo importante perché chiaramente è il comparto primario quindi può fare a meno diciamo così dell'industria dei servizi non può fare a meno dell'agricoltura il problema è che l'agricoltura è un settore veramente particolare per cui naturalmente è estremamente competitivo e per tenere i prezzi diciamo abbastanza calmerati perché sappiamo appunto che stiamo parlando di un settore primario spesso l'agricoltura è stata sovvenzionata e viene tuttora sovvenzionata e occorre dirlo cioè naturalmente gli agricoltori dicono che è normale che è giusto che venga sovvenzionata e queste proteste nascono appunto anche perché gli stati cominciano ad avere un comportamento un po' diverso rispetto a quello precedente cioè vengono a meno le sovvenzioni e chiaramente i prodotti europei cominciano ad andare fuori mercato questo è un problema è un problema grosso grave insomma ed è un problema che è difficile ha una difficile soluzione cioè da un certo punto di vista si potrebbe dire ma il mercato è mercato quindi vale per l'industria dovrebbe valere anche per l'agricoltura nella realtà non è così cioè non è la stessa cosa un bullone e un pezzo di pane cioè sono due cose che non possono essere paragonate in effetti mi ha anche stupito questo massiccio queste massicce proteste da parte degli agricoltori che solitamente insomma sono persone molto laboriose e dedite appunto al lavoro quindi la cosa che mi chiedo da non esperto in materia naturalmente ma la cosa che mi chiedo è se gli agricoltori si sono mossi in in tutti i paesi praticamente d'europa avevano cominciato gli agricoltori olandesi poi dopo a macchia d'olio germania francia italia come hai già anticipato quindi è un problema a livello europeo ed è un problema assolutamente da non sottovalutare quindi occorrerà trovare una soluzione perché non possiamo fare a meno dell'agricoltura contemporaneamente il mercato come si dice è il mercato di conseguenza la solita questione la domanda e l'offerta insomma quindi se da altri paesi soprattutto magari paesi extra europei paesi africani eccetera arrivano dei prodotti a bassissimo costo è chiaro che la concorrenza è spietata da quel punto di vista una delle cose più eclatanti così chiudo anche questo mio primo intervento è effettivamente l'olio d'oliva cioè un olio d'oliva prodotto in italia non può venire a costare meno di 15 16 euro al litro e ma non può venire a costare meno di questo cioè già questo sarebbe un prezzo di favore in un prezzo e mentre arrivano oli da appunto al nord il nord africa che hanno prezzi estremamente più bassi quindi questo è un problema ripeto deve essere risolto in una qualche maniera e a proposito di soluzioni così io prendo la palla al balzo e mi ricollego a quanto stavi dicendo prima di toccare con mano di analizzare più nel dettaglio la situazione europea e quindi vedere quanto potrebbe fare l'unione europea a sostegno degli agricoltori volevo focalizzarmi sulla situazione italiana hai fatto tu riferimento ad alcuni prodotti essenziali e centrali nell'economia italiana anche per quanto riguarda chiaramente le esportazioni è un prodotto abbiamo una serie di prodotti il made in italy in questo senso è sicuramente vincente che sono quasi un traino per l'economia del nostro paese ecco allora appunto prima di guardare quanto potrebbe fare l'unione europea l'italia come potrebbe intervenire per aiutare questi agricoltori o quantomeno sostenerli servirebbe secondo te quasi una sorta di presa di posizione da parte dei politici a sostegno magari di questi agricoltori che non ricordavi sono persone estremamente laboriose e che magari non siamo abituati a vedere insomma manifestare con con così tanta durezza in qualche modo e soprattutto in italia direi perché ci sono paesi penso alla francia che anche negli ultimi anni ha comunque è stata comunque protagonista di una serie di manifestazioni ecco l'italia negli ultimi tempi non è certamente sede luogo di grandi rivolte sì è proprio vero cioè io quando ancora mesi fa vedevo delle immagini che arrivavano dall'olanda erano impressionanti cioè tutti questi trattori bloccavano tutta la viabilità ed erano migliaia di persone di conseguenza appunto mi chiedevo ma come mai gli olandesi si muovono in questo modo e gli italiani non succede nulla poi abbiamo visto come ho detto prima che a macchia d'olio invece la protesta è arrivata anche da noi perché obiettivamente noi abbiamo anche questo e l'hai accennato tu ed è un tema da certamente da dibattere noi abbiamo delle eccellenze è inutile che non è non è per per vantarci non lo facciamo per vantarci ma obiettivamente il il formaggio grana l'olio italiano ma poi insomma tantissimi prodotti italiani sono prodotti appunto di eccellenza quindi dobbiamo anche difendere quelle quelle eccellenze che abbiamo no le dobbiamo difendere da una concorrenza e obiettivamente anche in questo caso non è per piageria ma è una concorrenza non legale diciamo nel senso che troviamo appunto prodotti che sono simili alla all'apparenza ai prodotti italiani nella realtà sono invece di scarsissima qualità quindi noi dobbiamo anche combattere contro a questa concorrenza diciamo che che con la quale combattiamo da sempre per la verità quindi abbiamo due problemi mantenere le nostre eccellenze e quindi mantenere le nostre eccellenze vuol dire chiaramente faccio l'esempio del del appunto del grana vuol dire comunque avere allevamenti cioè vuol dire avere latte italiano quindi estremamente controllato perché ecco questo è un altro aspetto del del nostro paese e dovrebbe farci onore abbiamo delle leggi molto severe per quanto riguarda i prodotti agricoli che devono essere appunto prodotti con in certi modi in certe in certe maniere assolutamente questo naturalmente fa sì che il prodotto italiano sia un prodotto d'eccellenza però è chiaro che la ripeto la concorrenza che abbiamo su questi prodotti è una concorrenza sleale quindi dobbiamo fare molta molta attenzione anche a questo di conseguenza giustamente hai sottolineato questo problema i due problemi diciamo sono da una parte non possiamo andare fuori mercato con i costi perché se se i nostri contadini hanno dei costi di base estremamente elevati chiaramente dall'altro lato non dobbiamo perdere la nostra qualità che è una delle cose che ci contraddistingue quindi sono due problematiche che devono essere tenute in considerazione ecco a questo punto anche se io non non amo tanto gli aiuti pubblici voglio dire però dobbiamo tener conto che è uno dei settori in cui aiutare chi lavora in questo campo diventa quasi una necessità insomma per cui ecco sono sono non sono proprio perché tutto venga sovvenzionato dallo stato ci mancherebbe altro però un aiuto dello stato è necessario a questo punto e altrimenti non sarebbero non ci sarebbero queste manifestazioni senso. Giustamente facevi riferimento a un possibile aiuto da parte dello stato e tuttavia come stavamo dicendo in precedenza sullo sfondo c'è sicuramente l'unione europea perché gli agricoltori non ci stanno evidentemente non non gradiscono e non hanno intenzione di accettare queste misure agroalimentari e visto che le proteste sembrano proseguire interrottamente evidentemente non hanno alcuna intenzione di fermarsi quantomeno non in tempi brevi per cui l'unione europea non può restare indifferente non può chiudere gli occhi davanti a questa situazione che come giustamente sottolineato si sta davvero diffondendo macchia d'olio e quindi ti chiedo come giudichi ora il comportamento dell'unione e quale dovrebbe essere invece il suo comportamento come dovrebbe prendere in mano la situazione e trovare delle soluzioni perché il malcontento direi deve essere giustamente messo in qualche modo a tacere e in che modo se non soddisfando chi sta attualmente protestando sì obiettivamente verrebbe in mente qualche cosa che diciamo va un po contro il mercato cioè la questione dei dazi obiettivamente bisogna chiamarla a dargli il loro nome perché altrimenti veramente è difficile uscirne nel senso che lo so che sembra brutto cioè noi siamo per una per un'economia aperta per l'efficienza del nostro sistema economico però obiettivamente in questo caso è difficile cioè se negli altri paesi per esempio non ci sono le stesse regole stringenti che ci sono in italia per difendere appunto la qualità e la bontà dei prodotti capite che poi è difficile stare sul mercato di conseguenza io ritengo ecco non sono ripeto non sono particolarmente ferrato in materia però spesso anche per motivi di lavoro sono in svizzera e vedo obiettivamente che i prezzi del dei beni diciamo alimentari sono prezzi molto elevati sappiamo che le retribuzioni svizzera non sono nemmeno paragonabili a quelle italiane però insomma il prezzo dei generi alimentari è elevato ma anche genere alimentari di importazione quindi ritengo proprio che esistano dei dazi che fanno sì che il prodotto che viene dall'estero comunque non vada a documento diciamo del prodotto fatto all'interno faccio un esempio la carne in svizzera costa tantissimo a dei prezzi estremamente elevati naturalmente rispetto ai nostri e la giustificazione che gli svizzeri danno è ma le nostre mucche sono allevate come una volta in libertà nei pascoli non ci sono allevamenti intensivi e così via ora che sia vero o meno però obiettivamente ecco dobbiamo tener conto che noi abbiamo normalmente delle piccole aziende non abbiamo grandissime aziende e quindi anche questo può incidere ma è anche un aspetto che a mio parere va tutelato cioè io preferisco vedere degli agricoltori dico che lavorano piccoli appezzamenti di terreno ma insomma non mi fa piacere vedere vedere questi latifondisti cioè vedere questi questi campi enormi che sono poi così irrorati di in genere di pesticidi o comunque di prodotti chimici attraverso attraverso gli aerei cioè vedere l'aereo che così va a irrorare i campi non è un aspetto che preferisco vedere il contadino che ha il suo appezzamento di terreno ovviamente deve avere un appezzamento tale che gli possa permettere di vivere però insomma io ecco difenderei questa agricoltura non la vorrei una agricoltura intensiva e non vorrei appunto il latifondo ecco ritornare alle ai grandi appezzamenti di terra ma poi Asia non so se anticipo una domanda ma comunque da tenere presente che l'unione europea è anche quella che chiede a gli agricoltori di non coltivare i campi questo è un altro aspetto che veramente lascia un po lascia un po basiti quindi anche quando vedo delle pubblicità oramai si vedono tranquillamente su internet delle pubblicità in cui si dice affitta il tuo terreno a 3500 euro all'etero se non mi sbaglio perché poi non venga coltivato ma ci vengano fatti dei pannelli solari cioè venga ricoperto di pannelli solari anche questa cosa mi sembra un'assurdità perché cioè i campi io ripeto poi ecco ultima cosa anche personale ma io sono nato nella piena pianura padana quindi voglio dire per me i campi sono sempre stati campi di mais i campi di grano sono sempre stato così un paesaggio a me familiare di conseguenza vedere dei campi che hanno sui pannelli solari veramente rimango basito non riesco ad accettare una cosa del genere e comprensibilmente come magari fatiche ad accettarla chi poi con i campi ci lavora ci guadagna nel quotidiano inevitabilmente insomma non può accettarlo non può concepire una decisione simile visto che chiaramente danneggerebbe se il proprio lavoro inevitabilmente appunto e ecco per concludere volevo spaziare leggermente e quindi chiederti se questa questa rivolta continua costante in qualche modo anche intensa non violenta ma intensa senz'altro perché sta causando non pochi disagi può essere un po un quasi un modello per eventuali altre rivolte potrebbe magari spianare la strada ad altre categorie in cui malcontento è piuttosto dilagante penso a chi è prossimo alla pensione che ancora non sa esattamente con queste riforme in arrivo quando potrà andarci ed è ormai un po il traguardo di di molti che molti aspettano con con ansia penso a chi magari in aziende in difficoltà chiede maggiori tutele sindacali ecco io volevo insomma avere un tuo giudizio a riguardo ecco c'è un fatto che hai fatto benissimo a farmi questa domanda che apprezzo particolarmente perché mi permette appunto di sottolineare un fatto ultimamente soprattutto nelle giornate di venerdì ci sono stati degli scioperi per quanto riguarda i mezzi di trasporto e chiaramente vengono fatti di venerdì giorno della settimana particolarmente utilizzato insomma per dai dai lavoratori quindi creano disagi e questi disagi sono proprio mal visti dalla popolazione cioè chi naturalmente deve andare in treno in metropolitana o in aereo insomma è comunque un disagio lo vede in maniera assolutamente negativa cioè stai facendo una rivendicazione ma stai penalizzando non il governo ma stai penalizzando me invece vedo almeno scorgo diciamo in questa protesta dei agricoltori quasi un appoggio da parte della popolazione anche se loro chiaramente con i trattori eccetera così possono portare dei disagi alla popolazione mi sembra che la popolazione invece appoggi queste manifestazioni e questa è una cosa ripeto abbastanza anomala strana rispetto alle altre categorie che ne so le diciamo non so le persone che magari venivano licenziate in una certa azienda che occupavano sedi dell'autostrada eccetera non erano mai viste bene o comunque non avevano la comprensione della popolazione invece almeno sembra che sia diversa per queste manifestazioni anche questa è una cosa secondo me da sottolineare cioè questi agricoltori ricevono dalla popolazione così una certa un certo appoggio ecco capiscono capisce la gente forse perché appunto si sta parlando di cose da mangiare quindi di dell'esigenza primaria che si ha e quindi avere il pane sul sul tavolo ad un prezzo accettabile insomma diventa una questione primaria per tutti quindi ecco mi fa piacere sottolineare questo aspetto questi agricoltori non sono solo anche perché ricordiamolo per una questione oramai da da diversi anni ma nel comparto agricolo sono impiegati una parte minima dei lavoratori italiani intorno al 2 per cento forse al massimo al 3 per cento ma non di più quindi non stiamo parlando di di masse di lavoratori però questi agricoltori insomma hanno la solidarietà del popolo ecco mi sembra corretto di concludere in questa maniera hanno la solidarietà della popolazione sì effettivamente sottolineavi che hanno la solidarietà del popolo gli agricoltori ed è così forse anche questo li sprona li sostiene e li invoglia a proseguire e con queste osservazioni io Giancarlo ti ti ringrazio ringrazio e ti do appuntamento al nostro prossimo incontro grazie a te Asia e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori